Oggi il convegno riguardava il disability manager e era l'occasione per lanciare un messaggio alla regione in primis e anche a tutti gli enti collegati alla regione affinché comincino a pensare, a esaminare sui benefici che potrebbero derivare alla regione stessa dell'introduzione di questa innovativa figura. Tra gli altri è necessario che in ambito regionale anche i comuni superiori a 50.000 abitanti intraprendano questa nuova strada nell'ambito della loro amministrazione. Il disability manager è una persona esperta e competente in tutte le materie che trattano la disabilità. Il disability manager deve partire dai bisogni, dalle esigenze delle persone con disabilità al fine di promuovere la loro autonomia in tutte le sfere della vita quotidiana. Quindi l'obiettivo deve essere quello di favorire l'accessibilità urbanistica, l'accessibilità ai trasporti, l'inclusione scolastica, l'inserimento lavorativo, il turismo. Quindi il disability manager può operare in diversi ambiti. Per quanto riguarda le amministrazioni comunali, il disability manager può avere due principali funzioni, quella di supervisione e quella propositiva. Le azioni di intervento sono molteplici. Il disability manager si deve occupare di coordinare le politiche per promuovere la pari opportunità dei cittadini, organizzare azioni di sensibilizzazione per la cittadinanza, coordinare gli interventi degli uffici comunali e dei vari assessorati, predisporre il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ovviamente il disability manager deve essere messo nelle condizioni di poter incidere concretamente nelle politiche relative alle persone con disabilità e deve avere a disposizione anche delle risorse economiche da impiegare nelle varie attività. Ci sono delle resistenze culturali o pratiche nella pubblica amministrazione locale a quello che poi è il lavoro del disability manager? Diciamo che le resistenze culturali forse sono le barriere più difficili da estirpare. Noi oggi abbiamo diverse leggi a livello nazionale e internazionale che trattano la materia della disabilità. Purtroppo manca ancora la cultura dell'inclusione, manca ancora la conoscenza delle esigenze delle persone con disabilità. Questo è veramente un grande passo che deve essere fatto, ma deve essere fatto insieme, attraverso un lavoro di rete, tra istituzioni, pubbliche amministrazioni, operatori e associazioni. Tutti insieme dobbiamo cercare di costruire una vera società inclusiva. Il GTT ha costituito il disability manager da sette anni a questa parte, è stata la prima azienda, grossa azienda di trasporto in Italia, a istituire la funzione. Il disability manager non risolve i problemi, però è un collante, è un tessuto connettivo tra tutte le strutture interne all'azienda ed esterne per fare in modo che l'accessibilità sia sempre più piena per tutte le persone e quindi anche per le persone con disabilità. Abbiamo effettuato molte cose, chiaramente non da soli, ma insieme alle associazioni, insieme alle istituzioni, perché il GTT è esperto di mobilità, ma le persone con disabilità sono esperte di disabilità. Pertanto, mettendo insieme queste due competenze, si riescono a trovare man mano le soluzioni utili e necessarie a far sì che, nel caso di GTT, la mobilità sia sempre più facilitata per tutte le persone, appunto comprese le persone con disabilità.